Assicurati che l'equipo sta incendito. Abra la copierta delantera. Ritira il cartuccio di toner e il congiunto dell'unità di tambor dell'equipo. Pressione ascia la palanca del blocco verde e la cartuccia di toner dell'unità di tambor. Esembale il nuovo cartuccio di toner. Quinta la copierta protettora. Colloquio il nuovo cartuccio di toner e l'unità di tambor Asta che oiga un click di engage. Installe il cartuccio di toner e il congiunto dell'unità di tambor nell'equipo. Seria la copierta delantera dell'equipo. Hei Tom! Grazie! 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 Grazie!